Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, bentornati per quelli che mi seguono già. Andiamo avanti con i tutorial natalizi e oggi volevo mostrarvi un simpatico segnaposto a forma di porta lumino. Iniziamo subito, ci serve una base in filtro grosso 3 mm a forma di stellina, io l'ho già preparata, e la ricavate da un quadrato 10x10. Poi ci serve un'altra striscia dello stesso filtro, sempre a 3 mm, dimensione 2x17. Andiamo a incollare la nostra striscia su se stessa con un rientro di circa 1,5 cm. Procedo. Ecco qua, la blocco un attimino con una mollettina in quanto deve fare presa. Poi tutto quanto metto in forma e vado ad incollare sulla mia stellina. Mi raccomando, la giuntura su un lato, su una punta della stella, quindi non qui, ma qui. Perché così poi andremo, avremo uno spazio per coprirla con la decorazione. Allora, colla su tutto il giro e procedo. Perfetto. E incolliamo. In questo modo. Poi, finché fa presa, ci serve un'altra strisciolina, stesso fetro, sempre a 3 mm, questa volta 2x11, che ci farà da piccolo manico. Allora, facciamo fare presa bene. Prendiamo questa e la andiamo ad incollare la prima volta qui, quindi sulla giuntura, nella parte interna. Facciamo fare un attimino presa. E poi, l'altro pezzo lo piego, in questo modo, incurvandolo e vado ad incollarlo sulla punta della stella. In modo da creare, appunto, questo piccolo manico. Colla. Applico. E teniamo un attimino, nel mio caso, per far far presa. Poi, andiamo avanti col fiocchetto. Ci serve un po' di pannolenci stampato, un piccolo rettangolino, 3x6, e un po' di raso, quanto basta, per legare, perché ci fungerà da piccolo fiocco. Ecco, io direi che ci siamo. Metto un attimo da parte. Prendiamo questo, stringo al centro il mio raso, giro, faccio due nudini, poi taglio via quello che non serve. giusto per tenerlo legato. Benissimo. Accorciamo. Questo non ci serve più. Prendiamo anche un rametto di pino, vado ad incollarlo qui, sempre per coprire la nostra giunta, e ovviamente per fare la decorazione. benissimo. Tengo un attimo premuto, applico anche già il fiocchetto, disbiego. poi, infine, ancora un po' di gavetta, allora circa 30 cm, ci servirà per fare l'ultimo fiocchetto e una decorazione a scelta. allora prendo la gavetta, prendo la gavetta, fiocchettino al volo, incollo, faccio i due nudini ai capi, vi ricordo che trovate tutte le misure e riferimenti qui sotto nell'infobox, mentre i materiali che utilizzo sul nostro sito, diamantashop.com tagliamo via quello che non ci serve, procediamo con la stellina, adesso ve lo mostro meglio, che lo giro, applichiamo, ecco qua, una sorta di porta alluminio in feltro, è pronto. Adesso io ci metterei un po' di paglietta dorata, la classica lametta, che si utilizza anche per i capelli degli angioletti, ed un cioccolatino per creare una cosa di questo tipo, da mettere appunto come segna posto. Adesso io l'ho già preparati anche in altre versioni, altri colori, quindi panna nuvolato, con una decorazione in legno e un'altra stampa, colore grigio, con il sonaglietto e avorio molto neutro. Volendo poi vi mostro, uno può togliere il cioccolatino, la lametta, e poi che no, metterci un lumino, quelli a batteria, che ci sta giusto giusto come misura, e riutilizzarlo magari così a casa. Bene ragazzi, spero che vi sia piaciuta la mia idea, velocissima, super semplice, senza cucire, grazie mille per aver guardato il video, ciao a tutti, e alla prossima!